coreografia text of time, livello base, 32 passi, 4 muri, non andare da male start e di breve fa, coreografo francese, bagliata e di breve fa, coreografo francese, bagliata e di breve fa, coreografo francese, bagliata stai Grazie a tutti. 10. 1. 4. 5. 6. 7. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 14. 15. 16. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.